Buongiorno ragazzi, eccomi qua dopo una pausa di quasi una settimana, ma come vi avevo già preannunciato su Classroom, ho voluto lasciarvi un po' di agio perché mi risulta abbiate comunque già, abbiate comunque svolto le simulazioni di prima e seconda prova, se non vado errato. E' di poco tempo fa, di ieri, la notizia che a quanto pare la maturità che sembrerebbe essere in forma telematica, salvo nuove disposizioni che sicuramente ci saranno, sarà composta soltanto da membri interni con un presidente esterno, insomma è tutto molto comprensibile anche perché meno si fa muovere persone meglio è. E insomma sono i docenti interni quelli che hanno avuto più controllo della situazione per quanto riguarda la didattica a distanza. Questo non cambia assolutamente la mia posizione perché insegnando solo latino non verrò comunque convocato perché la mia materia è già coperta dalla collega di italiano, però insomma ripeto che a questo punto ancora di più sono disponibile per eventuali ripassi se avete bisogno di chiarimenti di sorta su tutto il programma di italiano e ovviamente anche tutto il programma di latino. Programma di latino che oggi voglio ampliare come promesso, ancora sentite la mia voce, non mi vedete in video, non reputo adesso necessario cercare di inseguire votazioni che non considero equiparabili con le che avrei in classe e soprattutto non voglio mostrarmi ancora perché preferisco che ci sia un incontro più spontaneo dal vivo, io ci credo ancora, che sarà sicuramente più emozionante. Mi permetto ancora una volta di mostrarmi soltanto dal punto di vista audio. Ecco qui, ho lavorato tutto il pomeriggio a questa di nuovo cromaticamente discutibile, però insomma io faccio quel che posso. tabella, disamina o come mi piace dire a me, volo d'uccello sulla cronologia storica della seconda parte dell'impero romano che va purtroppo distruggendosi e in concomitanza con gli autori che possiamo riscontrare di maggiore o minore importanza e di impatto. Sicuramente non saranno questi gli autori che verranno ricordati poi negli anni a venire come particolarmente impattanti dal punto di vista letterario. Il periodo d'oro, l'abbiamo già detto, era quello precedente, era quello dei Flavi, anzi ancora di più quello di Giulio Claudio, quello di Ottaviano, quello di Seneca, Tacito, di Ovidio, di Orazio, mettiamoci dentro anche Petronio, sicuramente non quello di Frontone o di Minuccio Felice. Io vi giuro che per sistemare questa disamina cronologica, insomma ci ho impiegato un po', adesso noi utilizzeremo questo schema che vi ho già caricato sui materiali elettronici e faremo un percorso insieme, quindi oggi non vi parlerò di Apuleio, quindi mi scuso, però anche immaginare questa didattica due settimane prima come mi chiedono non è semplicissimo, devo anche vedere quello che riesco a fare in maniera coerente. Siccome il tempo c'è e mi sono accorto che reagite bene da quei pochi feedback che mi sono arrivati, datemene altri, che a me fa piacere sentirvi, mi raccomando, che questa modalità mi sembra abbastanza comprensibile, quindi continuo così e vedo che riesco a organizzare la didattica bene. Quindi, vediamo di scandagliare meglio la disamina colorata e assolutamente personalizzata che ho creato qui. Colonna di sinistra, Antonini e Severi. Questi sono gli imperatori che si susseguono dopo la morte dell'ultimo dei Flavi, che è Domiziano. Dopo Domiziano comincia il periodo dei cosiddetti imperatori adottivi, decade dopo i Flavi il principio di ereditarietà di sangue del trono o dell'impero e invece in ottemperanza ad una mentalità più meritocratica si adotta un personaggio che si reputa moralmente, militarmente degno, dignus. Il Senato deve approvare questa persona e si nomina così il successore. È il tempo degli Antonini. Sono tre gli Antonini, tutti della stessa famiglia, ma, ripeto, magari non originalmente, perché poi vengono adottati proprio per poter essere disegnati imperatori successivamente. Sono Antonino Pio, Marco Aurelio e Commodo. Per capirci, Commodo è quello del gladiatore. Il gladiatore è ambientato durante l'impero di Commodo, quindi fino al secondo secolo. Non sta a me adesso fare una disamina storica precipua dei liberatori, anche perché non sto facendo storia, io parlo di storia nel momento in cui mi serve per capire il clima culturale che poi sviscera la sua letteratura. Quindi, successivamente agli Antonini abbiamo la dinastia dei Severi, l'ultima grande dinastia prima della decadenza e della cristianizzazione, barbarizzazione e cristianizzazione degli imperatori. I Severi sono Settimio Severo, Caracalla, forse questo avete già sentito, la coppia Macrino-Elio Gavalo e Alessandro Severo. Arriviamo così fino a 235, anno in cui, dopo l'uccisione di Alessandro Severo, comincia un'epoca di cosiddetta marchia militare, per cui il conto degli imperatori è difficilissimo da tenere. Non siamo di un esame di storia romana di università con un ordinario pazzo, per cui io, però io che sono comunque un po' di estrazione accademica e anche un po' pazzo, ho deciso di recuperare quella che io credo sia la più accurata successione degli imperatori barbari dell'anarchia militare, a partire da Massimino il Trace, che pare potesse distruggere le teste degli avversari soltanto schiacciandole con le proprie mani. Massimino il Trace, analfabeta, non è mai stato a Roma per tre anni, però si vede che quando voleva si faceva intendere. Fatto sta che è il primo che apre le danze agli imperatori barbarici, che sono questi. Non vi chiedo di impararli, vi faccio soltanto capire che, se guardate quanto durano, ne ho anche eliminati alcuni perché ce n'erano più di uno per anno e ho scoperto che alcuni regnavano contemporaneamente a insaputa dell'altro, quindi per farvi capire come sta decadendo la situazione, questi sono tutti più o meno capi militari barbarici che si uccidono fra loro e conquistano l'impero marciando su Roma o neanche con le loro legioni. C'è anche un Tacito che evidentemente non c'entra niente con il nostro Tacito, c'è anche un non meglio identificato Claudio il Gotico e altri si chiude con Caro e Carino, un po' come Platone e Plotino. Quello, io distinguerei questa lezione in due fasi temporali come già ho fatto, lasciando perdere i barbi io direi di prendere in considerazione il secondo e metà del terzo secolo e poi dal terzo secolo fino alla caduta dell'impero romano d'Occidente che, secondo la tradizione, si fa coincidere con il 476, anno in cui i barbari di Odoacre depongono ufficialmente l'ultimo imperatore romano d'Occidente, Romolo, Augustolo. Sto parlando di impero romano d'Occidente perché nel frattempo l'impero era stato diviso in due. Era stato diviso in due dal 395 quando Teodosio dette in successione l'impero romano d'Occidente a Arcadio e quello d'Oriente a Onorio e poi ovviamente qui dal 423 al 75 ragazzi vi ho risparmiato anche qui una sequela di imperatori ufficiali e non ufficiali poi a un certo punto l'impero è stato smembrato in quattro province per cui c'erano due cesari e due augusti non si capiva più niente ho pensato di mettervi più importanti per quanto riguarda la cristianizzazione dell'impero Diocleziano, Costantino e Teodosio l'inizio della decadenza vera e propria con Arcadio che subisce già nel 410 l'invasione dei Visigoti di Alarico che saccheggiano Roma per la prima volta quindi un simbolo un evento simbolico e poi ovviamente anche il finale con l'ultimo imperatore deposto da Odoa che sarà poi in storia poi questo si chiama periodo alto medievale oppure i regni cosiddetti romano barbarici ma torniamo a noi torniamo al clima culturale del secondo secolo ebbene il clima culturale del secondo secolo che non è ancora un clima cristiano io vi ricordo che per leggere questa cronologia non significa che Frontone stava sotto Antonino Pio Aulo Gelio stava sotto Marco Aurelio o Apuleio stava sotto Commode in tutto questo periodo quindi dal primo Antonino più o meno intorno alla metà del terzo secolo agiscono questi personaggi come qui non sono per forza in ordine cronologico ma dal quarto al quinto secolo agiscono questi personaggi non sono in ordine gli imperatori sono in ordine gli autori no e qui ho cercato di darvi anche in buona sostanza gli argomenti principali i generi letterari che trattano in grassetto quelli più importanti Apuleio che tratteremo la prossima volta in maniera monografica Ammiano Marcellino che vi invito ad approfondire voi sul libro è una facciata poi vi do anche le pagine di oggi e Agostino che sarà l'ultimo autore con testi insieme ad Apuleio successivamente ad Apuleio che tratteremo quindi ancora più o meno per quattro lezioni due su Apuleio e due su Agostino e basta allora che dire di questo secondo secolo allora il secondo secolo dopo Cristo non è più un secolo in cui abbiamo dei degli exclua poetico letterari particolarmente importanti Apuleio si pone come unicum dal punto di vista del genere letterario e dal punto di vista della capacità ma addirittura per due secoli Apuleio non vi voglio dire nient'altro che questo scrive un capolavoro che insieme al satiricon di Petronio si può definire come appartenente al romanzo latino sono le metamorfosi o asino d'oro romanzo o fabula milesia anche qui abbiamo già visto questo tipo di fonte greca che sarà importantissimo per Apuleio e nella stesura delle sue metamorfosi titolo tra l'altro poi di grande importanza che verrà ripreso anche da Kafka tra gli altri è lui che recupera l'antico mito di amore e psiche che dovrebbe dirvi qualche cosa se avete studiato bene con la collega e anche comunque un grande oratore e filosofo però Apuleio è un unicum è un autore quasi slegato dal suo contesto per quanto riguarda invece non dico di più per quanto riguarda invece altri autori abbiamo Frontone e Aulo Gelio che sono tipici esponenti della cultura molto tecnica poco ispirata letterariamente ed estremamente precisa del tempo ci si concentra qui soprattutto sulla retorica sulla cura formale e sull'esibizione di cultura letteraria non è più importante la trasmissione di concetti ma la moda quel famoso gusto asiano vi ricordate che stava predominando con alcuni imperatori qui scoppia diventa preparazione retorica massima infatti Frontone ci lascia un epistolario estremamente curato formalmente e il suo allievo Aulo Gelio invece ci lascia le nocti attiche noctes attice lo vedete sui sul libro che è una miscellanea cioè un insieme variegato di argomenti di tipo enciclopedico sulla scorta della naturalis storia di Plinio Aulo Gelio ci parla di vari argomenti come per esempio un catalogo di autori letterari o anche per esempio addirittura di lingua latina approfondisce anche lo studio delle parole e si tratta assolutamente di un'opera non contenutisticamente meritevole ma soltanto un'esibizione di conoscenze che però è importante per capire un po' il mondo romano quindi Frontone e Aulo Gelio fanno parte di questo nuovo tipo di cultura nuovo tipo di cultura che viene anch'esso dalla Grecia perché nel secondo secolo si assistette a una nuova fioritura della cultura greca nacquero nuovi centri culturali lo stesso imperatore Adriano come ci dice anche il libro moderno della Jursenar Memorie di Adriano diceva di se stesso che aveva parlato in latino ma pensato in greco amato in greco il greco il culto della parola l'eloquenza arriva a Roma anche grazie alla nuova filosofia sofistica la cosiddetta neosofistica neosofistica la neosofistica è questo questa dottrina una dottrina che potremmo definire neoplatonica che viene veicolata soprattutto da questi personaggi che sono dei professionisti dell'eloquenza della declamazione le cosiddette recitazioni che vedevamo prima tornano qui in auge attraverso questi maestri di retorica che arrivano dalla Grecia ed impressionano non tanto per il contenuto quanto per la capacità di parlare con grande efficacia di qualunque argomento questa nuova dottrina questa nuova filosofia che trova anche in Plotino che forse avete fatto in terza uno degli allevi platonici uno dei suoi veicoli più importanti entra a Roma e influenza le tendenze letterarie tant'è che Apuleio ne è parzialmente vittima ma Apuleio con il suo talento e la sua sensibilità supera la povertà di questo secolo povertà di questo secolo che però vede anche a parte ecco scusate sì no che vede anche la la nascita di un nuovo genere letterario che farà la storia che è la letteratura cristiana antica allora antica ovviamente lo diciamo noi oggi per loro è semplicemente letteratura cristiana sono come abbiamo già detto abbiamo già incontrato i cristiani per esempio in Tacito quando negli Annales racconta di come Nerone avesse incolpato creando un capo espiatorio la minoranza dei cristiani che già formavano le prime comunità a Roma quindi già dalla Palestina si erano spostati a Roma alcune comunità dei cristiani che predicavano non siamo ancora non siamo ancora né nello sviluppo del cristianesimo come religione preponderante né nelle persecuzioni ma sicuramente i cristiani non godono di vita facile in questo momento cominciano a organizzarsi anche loro a livello letterario e i primi documenti che noi abbiamo della letteratura cristiana sono le cosiddette Veteres Latine cioè le traduzioni latine della Bibbia cioè per consentire a tutti di poter accedere ai testi della Bibbia soprattutto il Nuovo Testamento che era scritto in greco l'Antico Testamento era scritto in aramaico ed ebraico invece il Nuovo Testamento in greco beh bisognava tradurlo e quindi le Veteres Latine sono le prime traduzioni che che vengono fatte del Nuovo Testamento sono per lo più anonime anche le atti gli atti e le passioni dei martiri sono tra le prime fonti letterarie che queste comunità cristiane hanno in latino ovviamente martirio come testimone martir in greco significa testimonianza e il martire era chi testimoniava la propria fede in Cristo con il proprio esempio di professione di fede salda pura dura e pura diremmo oggi poi con le persecuzioni con le morti la testimonianza diventa ancora più importante da cui oggi noi abbiamo martire anche corso martiri della libertà coloro che sono morti dando un esempio dando una testimonianza anche questi atti e passioni sono per la maggior parte queste storie di questi di questi apostoli sono sicuramente e della passione di Cristo sono anonimi il primo autore che noi conosciamo è Minuccio Felice Minuccio Felice che aveva scritto un dialogo chiamato Octavius è un esponente della cosiddetta apologetica apologetica apologia in greco significa difesa l'apologetica è uno dei generi letterari interni alla letteratura cristiana più frequentati dell'epoca proprio perché bisognava difendersi delle accuse dei romani dei primi imperatori di questo periodo e dei senatori dei pagani di essere dei corruttori e di essere dei perversi perché ovviamente ogni minoranza spirituale viene attaccata sulla base di pregiudizio di diversità di paura dell'altro conosciamo purtroppo ancora oggi noi molto bene queste sensazioni e quindi l'apologia è la difesa dottrinale delle dottrine cristiane bisognava difendersi da vi faccio un esempio c'erano ancora nel terzo secolo delle voci per cui alcuni governatori si scrivevano con gli imperatori sul fatto che i cristiani forse facevano prova di atti di cannibalismo nelle loro riunioni e Minuccio Feliz è uno di quelli che si difende e dice no noi non ci mangiamo fra di noi e non fornichiamo neanche tra consanguinei quella era l'altra insomma l'incesto era l'altra accusa che si muoveva ai cristiani per cui c'è bisogno di una tradizione apologetica Tertulliano è il primo grande padre della chiesa i padri della chiesa sono i cosiddetti principali esponenti della cultura cristiana dei primi secoli che vengono così ancora definiti dalla chiesa ufficiale oggi Tertulliano il primo della grande tradizione degli autori cristiani africani perché anche Sant'Agostino era africano Tertulliano nato a Cartagine anche lui importantissimo per quanto riguarda le opere apologetiche infatti lui scrisse proprio l'apologeticum l'apologeticum dovete capire che soprattutto sotto Decio eccolo qua le persecuzioni che dura solo due anni ma si fa sentire le persecuzioni anticristiane a livello proprio di stermini sono all'ordine del giorno e quindi c'è bisogno di informare anche la popolazione che no i cristiani non fanno male a nessuno ora a meno non in quel periodo ecco poi chiaramente quando una religione prende potenza e diventa anche potere temporale quello è il problema passiamo invece alla seconda parte con gli imperatori più più inclini al cristianesimo sono due sono Costantino che nel 312 con l'editto di Milano rende il culto libero quindi toglie il paganesimo come religione ufficiale dell'impero e permettendo così la libera pratica del cristianesimo e soprattutto Teodosio che nel 380 con l'editto di Tessalonica rende il cristianesimo religione ufficiale quindi dopo anni di persecuzione i cristiani diventano i più la religione di riferimento in questo periodo abbiamo più autori diciamo tra il terzo il quarto e anche quinto secolo ma soprattutto terzo e quarto questi sono autori davvero minori che io vi cito soltanto Ausonio l'unico guardate l'unico esponente poetico c'è proprio un altro tipo di sensibilità guardate invece quanti altri scrivono in prosa abbiamo Simmaco che è un oratore epistolografo quindi lettere Ammiano Marcellino che vi ho evidenziato non per una vaga somiglianza con il mio nome di persona ma perché è uno storico di grande livello che si ispira a Sallustro e a Tacito un autore delle storie che cerca di essere sopra le parti e ricordiamo per la grande capacità di descrizione lo leggerete Aurelio Vittore anche lui biografo degli imperatori e il misconosciuto che sinceramente non avevo mai sentito in vita mia Rutilio Namaziano autobiografia odeporica vi ho scritto odeporica così voi capite che odeporico significa di viaggio quindi letteratura odeporica letteratura di viaggio così potete usare questo aggettivo dove meglio vi piace e pare Marziano Capella è un autore tardissimo tardissimo nel senso che Marziano Capella siamo già nel quinto secolo un altro enciclopedico vedete come gli interessi qua diventano più tecnici meno artisticamente ispirati e più tendenti alla prosa Eutropio un altro storiografo e poi abbiamo la grande triade dei padri della chiesa che sono Ambrogio vescovo di Milano da cui Sant'Ambrogio penso l'abbiate già sentito San Girolamo o Gerolamo anche lui importantissimo perché scrive la vulgata che cos'è la la vulgata è la traduzione ufficiale della Bibbia in latino la traduzione ufficiale della Bibbia in latino per molti secoli è stata quella versione di San Girolamo per cui da greco al latino per cui complimenti a lui anzi non soltanto dal greco ma l'antico testamento dall'ebraico perché San Girolamo aveva studiato anche ebraico anche ebraico e dal greco il nuovo testamento perché San Girolamo è un personaggio insomma di una certa cultura e poi per ultimo il grandissimo Sant'Agostino che però lascio in stand by lascio in stand by perché lo approfondiremo questo era un un volo d'uccello sulla su questo periodo ricordatevi che stiamo parlando della decadenza dell'impero romano soprattutto a partire dal quarto secolo e quindi nel momento in cui si rompe l'unità politica e culturale l'unità politica dell'impero si rompe anche quella culturale per cui fa bene il libro a dire che si passa da una letteratura latina a una letteratura in latino perché gli autori ormai non si sentono più parte di una tradizione letteraria che poteva essere quella di Virgilio quella di Orazio quella di Ovidio quella di Seneca ma ormai si trattano di argomenti più disparati utilizzando la lingua veicolare e tra l'altro quando io vi parlavo del sermo quotidianus quando vi parlavo già nel primo secondo secolo di quella differenza che intercorre fra la lingua parlata e la lingua letteraria considerate che dopo le invasioni barbariche l'impero romano disgregatissima vedrà le lingue per esempio gotiche le lingue barbariche che entreranno nell'uso comune quindi la differenza fra lingua parlata e lingua scritta non sarà più tra per esempio in Gallia tra sermo quotidianus e latino letterario ma sarà fra gallico visigoto ostrogoto e latino scritto quindi capite che la differenza diventa estrema questo spero che sia tutto chiaro vi ho dato tante informazioni ma questo video può essere stoppato riascoltato r cancellato ricondiviso quello che volete voi questo schema lo trovate già adesso mentre io sto parlando sui materiali elettronici le pagine che io ho affrontato oggi vanno dalla 1010 anche se c'è una bella mappa su 1008 quindi ve la metto da 1008 a 1023 considerando che ci sono delle cose in mezzo che non vi ho detto gli argomenti che non ho minimamente trattato non non guardateli comunque basta che date due lette e interrogate bene i miei appunti che dovremmo esserci d'accordo la scansione degli imperatori invece guardate questa perché è fatta con un certo criterio io vi ringrazio dell'attenzione vi auguro un buon fine settimana e come al solito rimango a disposizione buona serata a tutti